La Gatteria d'Estate vi presenta questa billetta a schiera a camere. Edificata nel 1997, si sviluppa su due piani per una superficie di 120 metri quadri. Ingresso su ampia zona giorno con accesso al balcone, dal quale possiamo vedere il giardino privato e la lampa che ci porta al pox doppio. Qui troviamo il primo bagno e la comoda cucina abitabile. Anche lei con accesso sul balcone, che è collegato al giardino privato da una scala. Questo grazioso giardino è di 50 metri quadri. Gli infissi della casa sono in legno doppi vetri con persiane in legno. Salendo le scale accediamo alla zona notte, dove troviamo la cameretta collegata al terrazzo di circa 10 metri quadri. Poi potete vedere il secondo bagno con vasca. camera matrimoniale, anche lei con l'accesso sul terrazzo. ed infine la seconda cameretta, con vista giardino e terzo balcone. soluzione in ottime condizioni. scendendo la scala torniamo alla zona giorno e possiamo accedere direttamente alla taverna, dove abbiamo in primis il box doppio, 30 metri quadri di dimensione. un piccolo bagnetto di servizio e la classica taverna con cucina. e accesso diretto al giardino. Da qui possiamo vedere la parte retro della casa. i due livelli di abitazione, la scala che ci porta alla cucina principale e la comodità è di avere la taverna collegata, in modo tale da sfruttarlo nelle belle giornate. risalendo la scala torniamo alla zona giorno. questo è l'ingresso dove vediamo bene la parte frontale della casa che è all'interno in un confine, quindi contesto molto tranquillo. vi aspettiamo per visionarne insieme. un saluto da Mauro